La Bicicletta La Bicicletta Hai voluto una bicicletta? Adesso pedala! Vai, mostro! Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Siamo in collegamento da Benizzole. Giusto? Grazie a tutti. Vorremmo un commento a caldo su Sara Morrado. Un commento a caldo in che senso? Come te la penso? Sara Morrado è Sara Morrado. Tranquilla. Tranquilla. Una brava ragazza. Una brava ragazza. Sta bene. Gli sposi auguro la maggior felicità che possono avere. Sara è una persona fantastica, piena di gioia, piena di allegria. Sì? 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 e tutti abbracciati, facciati. Una ragazza sensibilissima, ha cantato l'impegno e piangendo. Una ragazza sensibilissima, ha cantato l'impegno e piangendo. Una ragazza sensibilissima, è impossibile. Anno zero, un dio celebrato. Ci pervo fatto tutto, ho registrato solo lì, e ci è registrato tutto dall'inizio alla fine come abbiamo fatto. È un pregio, ma sicuramente è un difetto, che è troppo buono. Mandar, buongiorno. Gapriero, buongiorno. Grazie per essere dei nostri per l'ennesimo matrimonio. Ci vediamo alla fine però eh! Siamo commossi tutti! Come pensi di Franceschini Gabriele? Eh Dio, non mi stampo se c***o lì, però ho segniché me lo faccio a bere e pago lì le solite robe. Sembra un po' bestieller! Mi serve con lo sposta, mi serve con lo sposta! Mondiali! Olandaaa! No, la fede è la mia con tutto il resto. Beh, mi sento emozionato solo per vedere tutto questo. Non ero in buone condizioni ma per venire qua mi sono sentito in dovere di venire. Grazie a voi! Grazie davvero a voi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!